La primavera andata di caldo estivo ha spinto numerosi bagnanti a riversarsi sulle rive dei torrenti dell'Ovadese, aggirando i divieti emessi dal commissario straordinario alla peste sull'ina africana, che prevedono tuttavia alcune deroghe, ma dovrebbero essere i piccoli comuni a gestire un percorso che risulta molto complicato, come ha sottolineato il sindaco di Molare Andrea Barisione. Per chi vuole frequentare il fiume servirebbe in prima battuta una mia ordinanza che individuasse le aree di sosta permesse, che non devono essere su vegetazione, quindi stiamo già riducendo di molto le possibilità. Oltre a questo dovrei mettere anche la cartellonistica e la segnaletica nelle vie d'accesso al fiume e fin qua tutto bene, ma secondo il commissario dovrei essere sempre io a provvedere a fornire ai bagnanti il disinfettante, i copriscarpe in plastica monouso e il contenitore dei rifiuti in cui a fine giornata i bagnanti dovrebbero riporre i copriscarpe in plastica. Evidentemente anche per una questione economica non è possibile per un comune adempiere a tutte le richieste e anche per la questione rifiuti in un'area dove vige il sistema di raccolta porta a porta significherebbe trovare quotidianamente i cassonetti sommersi da spazzatura di ogni tipo. Molto complicato anche effettuare controlli. Personalmente ritengo molto difficile che qualche forza dell'ordine possa andare in spiaggia a sanzionare chi semplicemente si trova lì con un asciugamano e un libro da leggere. Non riuscivamo noi a farlo con chi aveva comportamenti molto più sbagliati, di barbecue, musica alta, campeggio abusivo e in zone anche più pericolose a causa della piena e mi sorprenderei se invece oggi riuscissero a trovare le risorse per fare dei controlli di questo genere. È anche vero che chi ad esempio va a fare trekking non è soggetto a rispetto di queste regole? Chi va a trekking è lui diretto e interessato a doversi portare dietro il disinfettante, le scarpe di ricambio, a occuparsi della disinfestazione dell'autoveicolo, delle gomme, mentre a un bagnante siamo noi sindaci a dovercene occupare come se il bagnante non fosse in grado di capire che deve portarsi dietro alcuni piccoli semplici accorgimenti e tutto finirebbe molto più liscio. A quel punto lì io farei un'ordinanza dove individuare almeno un paio di aree per il posteggio e per l'accesso regolare al fiume, ma a queste condizioni imposte dal commissario onestamente non sono in grado di adiempire.